È vero che tra le cose in ballo c'è l'assessorato chiave all'urbanistica, tuttavia questo muro contro muro rischia di produrre un edificio comunale costruito sui dissapori sin dal primo mattone. Dopo l'agitata riunione di ieri, conclusasi con una fumata nera, oggi i vincitori delle elezioni a Pescara sono di nuovo alla ricerca di soluzioni. Le posizioni al momento restano distanti. Per il sindaco Masci, Marcello Antonelli è l'unico assessore all'urbanistica possibile. La Lega invece lo vede meglio alla presidenza del Consiglio Comunale o come vicesindaco. Difficile pensare che il caso sia senza speranza, alla fine una soluzione si troverà. Probabilmente questa melina serve solo a marcare politicamente il territorio. Io ho chiesto alla Lega in primis di esprimere come assessore Marcello Antonelli perché penso che sia una persona che a fianco a me potrà fare benissimo perché noi abbiamo bisogno di rilanciare l'edilizia a Pescara e la sua competenza è utile perché questo avvenga. La Lega su questo sta facendo resistenza perché richiede che Marcello Antonelli sia utile in Consiglio ma ovviamente si arriverà a una soluzione del problema perché la città ha bisogno di persone esperte. È chiaro che non posso costringere nessuno a venire in giunta. La Lega ha anche altre figure che possono sicuramente rappresentare la città nei ruoli assessorili. Io ho bisogno di chi si occupi di urbanistica e di edilizia. Antonelli è sicuramente la persona più indicata e continuo a insistere perché urbanistica e edilizia a Pescara sono essenziali per far ripartire l'economia e io voglio scegliere la persona di cui mi fido di più in quel settore. Noi siamo in riunione e stiamo cercando anche noi di collaborare per dare un governo stabile e duratura a questa città. Saremo fedeli come lo siamo stati in campagna elettorale a Carlo Maci però il sindaco deve permettere alla Lega di esprimere il partito quelle che saranno le posizioni e le persone che lo andranno ad occupare. Marcello Antonelli potrebbe essere un ottimo vice sindaco come poteva essere anche un ottimo sindaco e potrebbe essere anche un grande presidente del Consiglio per garantire la regolarità dei lavori. Ricordo a tutti che la Lega è il primo partito di questa città e gli eletti della Lega superano il 40% della maggioranza e non può pensare il sindaco di imporre lui a noi chi cosa devono fare le persone. A parte che non è detto che dobbiamo per forza prendere l'urbanistica comunque troveremo al nostro interno la soluzione migliore al 100%. Grazie a tutti. Grazie a tutti.